eccola eccola vai col brindisi vai col brindisi brindisi il brindisi venite venite avanzate avanzate minacciose minacciose eccole avanzano minacciose le brindisi bellissimo avete fatto le coreografie avete fatto ha visto come si è piegata la ragazza così me lo rifai me lo rifai fai un specializzata ciao carissimo come ti chiami chiara da dove vieni sandonato milano quella è la vostra prima volta che cosa ti aspetti da questa serata divertirmi sono con le mie amiche cosa voglio di più bello di così questa cosa e perché ti sposi perché sono innamorata e quindi mi sposo lo darà per scontato perché sei una delle poche che mi risponde che perché sei innamorata lui anche non hai costretto quanti anni 10 10 la media 10 e ragazzi ormai la media si è alzata clamorosamente qui guarda qui hai visto lì è visto lo vedi guarda che ti spia puoi dire qualcosa che si diverta anche lui basta piace questa cosa come si chiama te lo ricordi andrea nell'intimità come lo chiami andre 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 così andre 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 tranquillo viaggio di nozze dove andrai e australia colui speriamo andata a fare quattro salti mi piace ok ti metti si vede marsupio dopo si grandissima ascolta e mandagli un saluto dai qualcosina andre divertiti ok divertiti andre mi ando dalla nostra sposa che si chiama chiara da milano ciao 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 ciao